Grazie di cuore per la partecipazione a questa cerimonia religiosa e per l'onore che avete inteso conferire al nostro Patrono San Matteo. Un ringraziamento particolare rivolgo a Sua Eccellenza, il vicario discopale, Monsignor Bruno Molinari, per aver accolto con entusiasmo l'invito ad ufficiare questa semplice ma significativa funzione. La vostra presenza costituisce prova tangibile della stima e della considerazione di cui gode la Guardia di Finanza in questa bella provincia. In qualità di comandante provinciale di Fiamme Gialle, questa è la prima occasione ufficiale che ho per rivolgere a voi tutti il più cordiale e differente saluto. Con l'aiuto del nostro Patrono San Matteo proseguiremo il lavoro che abbiamo scolto sinora, silenziosamente, con spirito di sacrificio, rigore morale, lealtà verso le istituzioni, rispetto verso i cittadini. Ancora grazie. E oggi tu di me fare una foto sulla segnalatura da Chieda, se lo fate siamo molto contenti. Ecco, che siamo tutti i cordi. Amo.